Inizialmente l'avevo visto come un insegnante tranquillo, in senso con tutto che è famoso di qua di là. Inizialmente ero molto, oddio il VIP arriva. L'inizio è stato molto terrorizzante. L'inizio è stato un po' spiazzante, la cosa del versione provino. Diciamo che mette molto a proprio agio. Non ho fatto per rivelare il distacco tra all'unno e un maestro. Più si andava avanti più mi è piaciuto. Non mi aspettavo questa cosa. Cioè, battutina anche durante la lezione in generale. All'inizio ho pensato, va, vediamo un po' questo, che cosa ci può dare. Lo senti proprio alla pancia. Non so come spiegare, lo senti proprio dentro. No, nervoso no. Plasido aveva detto che l'idea era interessante. Non è un lavoro che si può preparare in tre giorni. Una volta entrato non mi ha dato nessun tipo di soggezione, anzi. L'attore che fa sentire i suoi passi mentre il collega recita vuol dire che non è un buon attore. Oh mio Dio, cosa sto facendo? Che si è avversa! Che si è avversa! Passa la lingua! Che si è avversa! Che si è avversa! Allora... Allora... Giorgia Trasselli. Il mio ruolo è insegnante di edizione e recitazione in questa scuola fondamenta. Una scuola che è nata nel 2007. Un po' insieme a me, oltre a Califano e del Monaco, che sono gli organizzatori. Francesco, Francesco e Cristiano. Ci sono entusiasmi, ci sono passioni, quelle continuano ad esserci, per fortuna. E direi che il bilancio al momento attuale è assolutamente positivo. Grazie, perché poi quello che conta è proprio la passione. Ci riflettevo l'altro giorno. Vabbè, parlo di una cosa che non ho fatto, ma che volevo fare. Non l'ho fatta in tempo, perché ero stanca. Ti volevo portare una rosa. Fai conto che te la stia offrendo adesso? Rossa! E dicevo, una rosa rossa, certo perché è il teatro, il rosso, perché è il sangue, la carne, la passione che noi mettiamo nel lavoro, però è anche l'intelligenza, capito? Perché la passione senza intelligenza, forse sono due cose diverse. Quindi l'intelligenza, la cultura, tutte le cose che ha detto Michele questi giorni. Noi ti ringraziamo proprio tanto, tanto, tanto. Io ho dato, ma mi avete dato. Poi nello scambio, ognuno fa il proprio guadagno. Perché si scopre sempre, ogni individuo ha una ricchezza enorme. La passione è la base della recitazione del nostro mestiere. Perché quando ci sono quei momenti in cui voi vi esaltate, mi esalto anch'io. Perché abbiamo il fuoco dentro, ami questo mestiere, ti ami tutto e sopravvi tutto. Più che insegnare, mi è perso di stare a fare una regia, in cui, come succede in alcuni film, la regia dipende dal materiale, dipende dalla storia. Credo che sia stata una bella storia. Grazie. Grazie.